Musica Buonasera, buonasera Don D'Arigin, prego piano subito la notizia del giorno, diede della zoccola alla collega consigliera comunale si ribalta la situazione nel Tribunale di Sulmona che condanna l'ex sindaco Bruno Di Masci per diffamazione una vicenda che si trascina negli anni, sentiamo tutto nel nostro servizio 5.800 euro di spese processuali, più risarcimento da quantificare in sede civile e la pena inflitta oggi dal Tribunale di Sulmona Bruno Di Masci, già sindaco della città per aver offeso con un insulto sessista quando era consigliera comunale con un'altra consigliera comunale, Roberta Salvati, la quale presentò querela i fatti risalgono al 12 settembre 2018, il caso finì prima nel Consiglio Comunale di Sulmona poi in procura di Masci al telefono impegnato in una conversazione privata in un locale pubblico le sue parole furono registrate da una persona presente in quel momento la quale poi divulgò su Whatsapp il file audio che raggiunse anche il telefono della stessa Salvati la posizione della persona che divulgò il file, inizialmente indagata, è stata nel frattempo archiviata sentenza poi impugnata dalla procura in Cassazione e dalla parte civile oggi il nuovo verdetto che stabilisce che l'epiteto pronunciato da Di Masci configura una diffamazione è un provvedimento importante per me e per tutte le donne perché offese di questo tipo sono sempre frutto di un approccio culturale da contrastare in tutte le sedi ha commentato Salvati dopo la lettura della sentenza all'esito dell'udienza di oggi dinanzi al Tribunale nell'ambito di un procedimento che si trascina da oltre sei anni ribadisco la mia completa non colpevolezza dichiarato Di Masci in ordine a quanto mi stava debitato attendo con grande serenità le motivazioni della sentenza a fine di proporre ricorso per Cassazione prima che possa intervenire la prescrizione della quale non mi sentirei affatto soddisfatto e ora invece la vicenda dell'ospedale rumoroso che disturba i residenti di Viale Mazzini arriva alla condanna per l'ex manager dell'ASL e per altri due si tratta di uno dei filoni dell'inchiesta aperti dalla procura sentiamo tutto nel nostro servizio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona su richiesta della procura ha emesso il decreto penale di condanna per un ex direttore generale dell'ASL un ex direttore sanitario dell'ospedale di Sulmona e una figura tecnica i tre sono stati condannati a pagare una multa da 160 euro si tratta di uno dei filoni dell'inchiesta sull'ospedale rumoroso che la procura aveva aperto dopo le denunce dei residenti nel caso specifico il PM aveva chiesto inizialmente di archiviare il caso al GIP uno dei residenti dei Viede Blasis che aveva chiamato in caso alla magistratura si era opposto a tale richiesta il GIP aveva disposto ulteriori indagini sulla vicenda la procura a quel punto ha deciso di chiedere decreto penale di condanna che è arrivato con sentenza del GIP si tratta di un provvedimento che almeno uno dei tre impugnerà per chiedere un regolare processo l'accusa per l'azienda è quella di non aver impedito che i rumori dell'impianto di termoventilazione delle sale operatorie e del generatore superassero i limiti previsti dalla normativa vigente dalle analisi eseguite lo scorso anno dall'Arta era venuto fuori che il rumore prodotto dagli impianti eraulici dell'ospedale civile di Sulmona aveva provocato il superamento del limite differenziale a finestra aperta in periodo notturno per questo il sindaco della città di Sulmona Gianfranco Di Piero aveva disposto il 29 novembre 2022 nei confronti dell'ASL l'attivazione nell'immediato di tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni l'azienda si era affidata a un esperto per risolvere la problematica affidando l'incarico per la predisposizione di una relazione di impatto acustico il prossimo mese di luglio si chiederà il processo che vede imputato anche un altro ex direttore generale e ancora la vicenda del Congesa con il consigliere Maurizio Proietti che chiede la chiusura della discarica di Noce Mattei all'indomani dei dati dello studio della popolazione dell'Istituto Superiore della Sanità sentiamo tutto chiudere immediatamente la discarica di Noce Mattei lo chiede il consigliere comunale Maurizio Proietti a sindaco Gianfranco Di Piero all'indomani dello studio sulla popolazione condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in attesa di analisi più approfondite Proietti ritiene necessaria la chiusura del sito certamente l'assessore alla sanità metterà in atto tutte le misure necessarie per effettuare uno studio epidemiologico ma evidenzia ormai una criticità nell'azione interpresa da primo cittadino i tempi di realizzazione dello studio e la valutazione dei risultati richiederanno molto tempo bisogna trovare soluzioni più rapide nemmentre si prepara l'attuazione dello studio più complesso ringara Proietti dopo aver letto la risposta del sindaco Di Piero la linea da portare avanti è solo una la chiusura immediata della discarica la motivazione prevalente va rintracciata nel report dell'Istituto Superiore della Sanità che evidenzia un aumento della patologia tumorale in Valle Peligna in particolare il tumore della mammella ricordo al rischio di essere ripetitivo che l'aumento di questo tipo di neoplasia lo segnerà ai più di dieci anni fa denuncia ricorda Proietti supportata dal dottor Bafile il senologo dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila questo è un atto che un sindaco può fare ricordo a me stesso soprattutto ai cittadini che è lui la massima autorità sanitaria per chiudere la discarica buoni motivi forniti appunto dal report dell'Istituto Superiore della Sanità ciò significherebbe tutelare la salute dei cittadini che ci hanno dato fiducia attraverso il voto conclude Proietti veniamo all'estate alle porte i tavoli all'aperto arrivano i vermessi in extremis a Sulmona ma molte le struttorie ancora in corso i tempi restano lunghi facciamo il punto nel nostro servizio parte la stagione all'aperto il comune tenta la rimonta con i permessi del suolo pubblico una ventina ne sono stati rilasciati nell'ultimo periodo altri sono in itinere all'esame della conferenza di servizi a confermarlo il comandante dirigente della polizia locale Domenico Giannetta al momento una ventina di commercianti potranno inaugurare la stagione estiva alle porte inizialmente delle 35 domande pervenuti al comune la gran parte non hanno ricevuto il consenso dagli uffici comunali di Palazzo San Francesco il problema è stato dovuto alle morosità accumulate negli anni per un fraintendimento di fondo in particolare la deroga per il covid che aveva liberalizzato da 2020 fino al 2023 l'uso del suolo pubblico ma solo parzialmente per i primi mesi il pagamento della tassa relativa insomma molti esercenti hanno ritenuto che l'esenzione dell'autorizzazione fosse anche un'esenzione del cannone la CREX TOSAP lo scorso aprile il comune aveva incontrato i titolari dell'attività dicendo sia un piano di rientro per chi aveva presentato regolare domanda per l'utilizzo del suolo pubblico e al risultato amoroso la sanzione non sarà applicata per intero ma solo per il 30% il tutto rateizzabile con pagamenti pari alla durata della concessione tuttavia non mancano osservazioni bisogna passare per il suap il problema riguarda principalmente i tempi di evasione della pratica interviene Franco Ruggeri titolare di un bar in centro storico io ho fatto domanda a marzo non possono passare tre mesi per rilasciare un'autorizzazione questo è il problema di fondo senza contare che l'aria esterna della mia attività non è nemmeno pubblica ma condominiale l'attività all'aperto poi dovrebbe fare conti a breve anche con il nuovo regolamento sul decoro urbano che è stato predisposto dall'assessore al centro storico Sergio Berardi e che tra le altre cose regolamenterà anche l'arredo urbano quello di Deor nel frattempo nel centro storico sul Monese sono riparti di controlli della polizia locale per i mastelli della raccolta differenziata che devono essere tenuti all'interno delle singole attività come recita un'ordinanza sindacale del 2017 i vigili urbani coordinati da Giannetta hanno portato avanti in queste settimane una campagna di informazione nei prossimi giorni per i trasgressori si passerà alle sanzioni ci dicono che dobbiamo addirittura affittarci un locale per depositare i mastelli o recarsi nell'isola ecologica così non si può lavorare concludono alcuni commercianti di Piazza Garibaldi ci fermiamo con la prima parte e tra poco con le nostre notizie quando abbiamo pensato a Parco del Gusto la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio di fatti la struttura oltre ad essere completamente in legno ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Copp Ansape Terra Antica in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo la nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia locali che sono in grado di raccontare il nostro territorio dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche agricole della nostra Valle come i legumi cereali farine per passare poi alle paste le trafilate in bronzo le produzioni artigianali ecco questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto Parco del Gusto all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano propone quotidianamente tutte le nostre produzioni dall'olio extravergine d'oliva della varietà rustica e gentile fino alle produzioni lattiero-caseari per chi volesse venirci a trovare Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica Statale 5 Raiano Parco del Gusto dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio Casa Funeraria Santilli un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita Casa Funeraria Santilli Via Edward Lear a Sulmona Sogni di viaggiare in piena libertà senza rinunciare al comfort di casa? Scopri Green Camper a Sulmona noleggia il camper su misura per te e inizia la tua vacanza in piena libertà inoltre offriamo assistenza completa dalla manutenzione ordinaria alla riparazione offriamo soluzioni di rimessaggio su misura per proteggerlo in ogni stagione vieni a scoprire la nostra selezione di camper nuovi e usati Green Camper Via Roberto Cicerone numero 1 Sulmona telefono 331 77 11 020 con Green Camper parti verso una nuova avventura i prezzi di luce gas si stanno passando e se gli altri fanno finta di niente noi te lo diciamo papale papale con noi risparmi per davvero perché non abbiamo intermediari né costi nascosti la nostra energia è abruzzese e se ci scegli sei un grande perché dai forza al tuo territorio che stai ad aspettare passa a Santa Croce Energia l'ottica ammazza l'orso arricchisce il suo laboratorio di macchinari innovativi capaci di mappare il comportamento visivo e di parametri biometrici di ogni singolo occhio al fine di ottimizzarli grazie all'intelligenza artificiale ora è possibile avere lenti personalizzate prodotte sulla base di una precisa misurazione il laboratorio inoltre è dotato della strumentazione necessaria per riparazioni e montaggi degli occhiali grazie a di una mola automatica computerizzata che permette di ricavare la forma voluta del taglio delle lenti graduate e non occhiali pronti in mezz'ora o nel corso della giornata con lenti disponibili in magazzino vedere bene per vivere bene ottica ammazzalorso corso o video sul mona da gina tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024 avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento grazie al nostro nuovo macchinario professionale un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta con orientamento vedo non vedo che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero oltre a questo troverete la tenda night and day motorizzata che consente giochi di luce ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato unico e meraviglioso da gina tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere gina tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce www.ginatendaggi.it corri a trovarci siamo a Sulmona in via San Polo 4 seconda parte ripartiamo dalla cronaca un malore in casa ha stroncato la vita di Franco Quaglieri 68 anni un altro grave lutto nel mondo del Montanigezzi il suo ricordo nel nostro servizio muore a causa di un malore nella sua abitazione dintro d'acqua Franco Quaglieri 68 anni si è spento nella serata di ieri per un arresto cardiaco i soccorsi del 118 una volta giunti sul posto non hanno voluto fare altro purtroppo che costatare il decesso socio fondatore dell'associazione culturale Montanigezzi organizza uno degli eventi più noti dell'estate abruzzese Quaglieri era impegnato nell'organizzazione del festival del jazz assieme a Filo Daniele che ha assunto la presidenza del dicembre scorso un mese prima della scomparsa di Walter Colasante Quaglieri era il cognato di Colasante zia o del sindaco sciente Cristian in passato dal 2010 al 2015 era stato anche consigliere comunale nella sindacatura di Giuseppe Gianmarco Franco Quaglieri lascia la moglie Anna Maria e i figli Daniele e Sara la camera ardente è stata allestina nella casa funeraria Caliendo Celestia mentre i funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di Maria Santissima annunziata l'intro d'acqua e ora la cronaca che ci porta a Campo di Giove ladri in azione nella palazzina rubati 4.000 euro di attrezzi stanno indagando sul caso i carabinieri della locale stazione ma sentiamo tutto nel nostro servizio ladri in azione in una palazzina che si trova sul territorio comunale di Campo di Giove i malviventi hanno preso di mira un edificio comunale e hanno portato via gli attrezzi da lavoro di una ditta che sta effettuando la riparazione dell'ascensore si tratta di un furto datato scoperto solo questa mattina dagli operai della ditta che hanno ripreso i lavori in un altro bano scala del condominio la palazzina infatti raggruppa una serie di abitazioni appartenenti a persone fuorisede che tornano principalmente nei periodi di vacanza il bottino del furto si aggira sui 4.000 euro stando alle prime stime risultano rubati trapani cavi elettrici vario materiale che utilizzava la ditta sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia contro i gnoti e nelle prossime ore ascolteranno operai e altre persone informate dei fatti per venire a capo della vicenda intanto si è reso necessario l'intervento del soccorso per un 50enne straniero che nel pomeriggio lungo la strada che porta al passo San Leonardo sul territorio di Pacentro è uscito fuori strada con la sua bici finendo contro il guardrail non si sa se per un malore o per una distrazione fatto sta che sul posto sono stati chiamati i soccorsi dell'atomobilisti in transito l'uomo è stato affidato alle cure del 118 che hanno attivato l'elisoccorso da Pescara lo hanno trasferito in elicottero nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è ricoverato per un brutto trauma cranico in codice giallo le sue condizioni non sarebbero gravi sulla dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona a proposito di Pacentro parliamo del campeggio Le Coppe uno dei più gettonati per l'estate il parco Maiella dall'ok ma con specifiche disposizioni sentiamo tutto nel nostro servizio il parco Maiella dice sì al campeggio e località Le Coppe sul territorio comunale di Pacentro una delle mete più gettonate soprattutto per il ferragosto e l'estate peligna ma dall'ente arrivano una serie di prescrizioni e di vieti il parco ha disposto che potranno essere autorizzate presenze non superiori a 100 al giorno con periodo risosta non superiori a 15 pernottamenti consecutivi per ciascun nucleo riguardo al periodo compreso tra il 10 il 20 agosto 2024 il numero delle presenze potrà essere elevato fino al massimo di 250 con periodi risosta non superiori a 15 pernottamenti consecutivi per ciascun nucleo è vietata l'accensione di fuochi deroghe specifica tale di vieto possono essere concesse per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sotto vostra sorveglianza il parco è inoltre stabilito che il comune di Pacentro dovrà provvedere alla collocazione temporanea di apposti di contenitori per la raccolta di rifiuti alla periodica rimozione degli stessi alla vigilanza sull'abbandono dei rifiuti per prevenire situazioni di degrado sempre il comune dovrà provvedere alla collocazione temporanea all'interno del campeggio di apposti di servizi igienici dotare di vasca di raccolta attenuta a stagna lo smaltimento dei reflui mediante ditte specializzate al fine di impedire il transito di mezzi motorizzati durante le ore notturne dovranno anche essere posizionate barriere mobili sulla strada carrabile all'uscita e all'ingresso dell'area campeggio regole ben precise che varranno per tutta l'estate ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia questa è sempre radioanticherue.it oggi trasmissione in diretta dell'inaugurazione della libreria Radio Anticherue da Gaglianaterno in tutto il mondo una comunità energetica un festival letterario una libreria d'occasione e anche una radio di comunità così piccolo borgo di Gaglianaterno e piccolo centro della valle su Bequana lotta allo spopolamento una rinascita grazie a un gruppo di ricercatori che arrivano da tutta Italia con il progetto Neo case messe a disposizione in paese per studiare tutti gli aspetti della comunità l'ultima iniziativa è la libreria aperta alcuni giorni fa da parte di due romani che hanno deciso in questa seconda fase della loro vita di investire appunto a Gagliano è un'associazione culturale aperta a tutti coloro che vogliono diventare soci e abbiamo intenzione di fare iniziative culturali per tutto l'anno non solo le stade come di solito avviene nei paesi ormai ci sentiamo parte del tutto da quando li ho scoperti a Roma passavo praticamente tutti i giorni lì almeno un paio d'ora al giorno non è mai stata una libreria d'uso e consumo sempre è stata un viaggio mi auguro veramente che anche negli altri paesi che ho visitato e ho visto qui attorno mi capiterà di tornare per vedere l'inaugurazione di cento altre librerie un carosello di sapori e colori per ormai nota Sagra delle Ciliegie a Raiano la 67esima edizione della Sagra delle Ciliegie di Raiano ha portato un'ondata di festa nella Valle Peligna cuore pulsante dell'Abruzzo dal 31 maggio al 2 giugno il comune di Raiano si è vestito a festa grazie all'iniziativa di Ottaviano Giannangeli che ha voluto questa celebrazione in onore del patrono San Venanzio e per esaltare il frutto emblema del territorio la ciliegia originariamente concepita come una competizione canora la manifestazione si è evoluta a metà del XX secolo in una Sagra completa con la caratteristica sfilata dei carri allegorici la Maggiolata così chiamata si è arricchita nel tempo con l'aggiunta di una fiera agroalimentare e un concorso enologico quest'anno ha visto anche la premiazione del primo concorso Ratafia Amatoriale anche quest'anno siamo arrivati alla 67esima edizione della nostra Maggiolata oggi è stata una giornata un po' turbolente per noi perché questa mattina è stata una mattinata uggiosa così come si può dire però nonostante tutto adesso il tempo è riuscito e siamo riusciti a fare dopo tanti anni la sfilata dei carri che negli ultimi due anni è piovuto sempre e anche quest'anno c'è stato una grande affluenza di persone anche ieri sera all'ottava edizione della notte rossa ciliegia abbiamo avuto quasi 15.000 presenze nel nostro paese che dire siamo soddisfatti della riuscita io con tutta la mia associazione Raiano e Vendi che ogni anno nell'organizzare come si sol dire sembra una retorica ma ci mettiamo veramente il cuore come sempre una bellissima manifestazione siamo arrivati alla 67esima edizione è un numero molto importante sicuramente una delle manifestazioni folcloristiche più antiche d'Abruzzo anche quest'anno l'organizzazione Raiano e Venti si è superata e grazie al contributo loro ma anche di tutti quanti i cittadini di Raiano e non solo siamo riusciti a mettere in campo una tre giorni veramente densa di appuntamenti che hanno spaziato in tutti i settori dall'aspetto goliardico fino a quello culturale e non dimentichiamolo che quest'anno abbiamo avuto anche ospite l'associazione nazionale città delle ciliegie di cui noi siamo soci fondatori che hanno portato a Raiano la 18esima edizione della festa nazionale della ciliegia quest'oggi ci sono stati anche i concorsi della miglior ratafia artigianale e della miglior ciliegia nazionale e con grande gioia accogliamo tutti i turisti che sono qui che potranno ancora continuare a venire soprattutto nei prossimi anni Sagra delle ciliegie e Raiano evento straordinario io sono qui da due giorni ieri sera anzi questa notte c'erano forse 30.000 persone per me è una cosa che colpisce anche il cuore perché i miei genitori sono di Raiano quindi ho profondamente radici in questo territorio bellissima come in regione Abruzzo stiamo cercando di valorizzare questo evento già da un paio d'anni io mi sono fatto promotore poi gli amici del territorio mi hanno dato una mano è un paese ben amministrato c'è un gruppo molto vivace che porta avanti questa tradizione io credo che qui ci sia la vera Italia il vero Abruzzo e quindi noi possiamo guardare anche i mercati internazionali per attirare persone europee una bellissima manifestazione la 67esima che diciamo tra le più antiche d'Abruzzo che si ripete con entusiasmo in una cornice di pubblico favoloso che testimonia quanto sia importante mantenere determinate tradizioni come quelle di questa di questa giornata un argomento importante affrontato anche in regione Abruzzo che finanzia anche questa bellissima manifestazione che è degna del suo più alto nome che è quello sulla ciliegia per la maggiorata di una tradizione che richiama anche molti che vengono appositamente tornano a Raiano per festeggiare insieme a molti molti concittadini l'entusiasmo importante è vederlo anche negli occhi dei giovani dei bambini che stanno festeggiando insieme agli adulti è sinonimo proprio di un connubio interessante che fa ben sperare anche per le successive edizioni la festività ha preso il via venerdì 31 maggio con il resi di gialuca impastato in piazza postiglione gli stand gastronomici hanno accolto i visitatori ogni sera insieme a concerti spettacoli di cabaret e l'attesa notte rosso ciliegia del sabato primo giugno il sabato sera ha preso il via delle 19 con l'apertura degli stand seguita da artisti di strada esperienze sensoriali giocolieri e show revival dei forever 90 la notte dj animato a piazza postiglione a partire dalla mezzanotte con carmine di pietro alex di felice e alexius dj e la guest star renella bulgara a luna del mattino il momento più atteso è stata la tradizionale sfilata dei carri allegorici di domenica 2 giugno con centinaia di partecipanti in costumi tipici rappresentanti sia le comunità locali che quella regionale la serata si è conclusa con l'energica performance dell'orchestra popolare del saltarello a partire dalle 21 la sagra delle ciliegie di raiano è un evento che celebra non solo il gusto squisito delle ciliegie ma anche la ricchezza culturale e la vivacità della comunità locale un appuntamento imperdibile che ogni anno rinnova la tradizione e l'orgoglio di raiano www.ondadv.tv qui continua la nostra informazione in tempo reale come ogni martedì non possiamo chiudere senza Carlo Di Ruscio il suo aforisma ci fermiamo qui grazie per averci seguito una buona serata buonasera Andrea buonasera delle spettatori di Onda DG eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma allora oggi innanzitutto devo fare le mie congratulazioni i miei auguri per il pensionamento a due carissimi amici miei al colonnello Sciarappa Marcello che io ho avuto come comandante in assi di Pescara per ben 13 anni da quando era tenente a quando è diventato maggiore l'ho avuto come comandante ed è stato un ottimo comandante oltre che un grande amico di tutti quanti noi persona stupenda meravigliosa competente preparata quindi è stato un comandante che ha dato al NAS di Pescara un grande una grande visibilità un grande lustro il NAS con Sciarappa ha fatto delle belle operazioni poi eravamo tutti marescialli indascambiabili quindi ognuno di noi aveva una competenza su un settore e tutti quanti ci intendevamo un po' di tutto però sotto la sua ottima guida abbiamo fatto a suo tempo dei bei risultati e penso che questi risultati stanno continuando anche ora con altri comandanti ma di lui ho un ottimo ricordo e poi un altro personaggio che è un grande amico mio che è andato in pensione pochi giorni fa è il sostituto commissario Daniele Daniele Lerario della Polizia di Stato ottimo investigatore che ha sempre fatto Polizia Giudiziaria è sempre stato alla squadra anticrimine quindi per tantissimi anni è stato qui al commissariato di Tesumona e ha legato il suo nome a grandi operazioni di contrasto e lotta alla piccola criminalità ma anche alla grande criminalità quindi si è sempre distinto per la sua attività investigativa incessante costante e soprattutto fruttuosa quindi noi cittadini nel giro di pochi giorni abbiamo avuto diciamo il dispiacere di vedere che si sono che l'arma e la polizia si sono impoverite di due personaggi ripeto del colonnello Sharap e del sostituto commissario Daniele Lerario però sono convinto che loro hanno lasciato degli ottimi sostituti hanno fatto scuola a degli ottimi collaboratori a degli ottimi sottoposti che hanno che sapranno ripercuotere ripercorrere le loro orme che sapranno portare avanti il lavoro da essi interrotto auguri a tutte e due per il loro pensionamento entrambi lasciate due famiglie istituzionali e avrete più tempo per dedicarvi alle vostre rispettive famiglie auguri colonnello Sharappa auguri carissimo Daniele Lerario vi voglio bene a tutte e due e ho sempre di voi un ottimo ricordo sempre perché uno l'ho conosciuto personalmente ripeto 13 anni di collaborazione e l'altro l'ho conosciuto da cittadino ammirando ciò che ha fatto per tutelare Sulmona dalla della delinquenza e per garantire il rispetto delle leggi fatta questa doverosa premessa a questi amici miei ma amici di tutti amici delle istituzioni e quindi persone che hanno lasciato il segno sia nell'arma dei carabinieri che della polizia veniamo al proverbio del giorno allora sempre più persone con cui parlo quotidianamente che incontro che mi chiamano che è un modo di incontrare dei posti di lavoro loro o che incontro anche semplicemente quando vado a mangiare la pizza sempre più persone si lamentano del luogo di lavoro delle condizioni di lavoro si lamentano di un fatto bruttissimo che spesso prestano la loro collaborazione a imprenditori a gente che svolge varie attività ma non voglio scendere nei dettagli perché non voglio che nessuno si senta coinvolto cercherò di stare molto sul generico però insomma queste persone che lavorano nei più svariati settori a parte che molte volte fanno molto più ore di quelle per le quali vengono assunti molte volte si concorda una prestazione e ne vengono fatti altre in eccesso poco riposo ma soprattutto una cosa gravissima che qualcuno scopre che non gli vengono versati i relativi contributi contando sul fatto dell'amicizia della confidenza confidando sul fatto che ci si conosce da tempo qualche persona ha lavorato non dico gratis ha lavorato sotto costo sta lavorando sotto costo e poi magari non gli vengono manco versati i contributi e tutto questo lo scopre tramite accertamento presso l'IMS o addirittura sul chiamato dell'IMS stessa allora di contro succede anche il contrario che qualche buon datore di lavoro qualche bravo imprenditore assume delle persone che gli vanno lì a chiedere di lavorare perché hanno bisogno perché hanno famiglia perché non hanno reddito perché qua perché là qualche imprenditore ha fatto anche degli sforzi per mettere nella propria azienda nel proprio contesto lavorativo delle persone di fiducia o che riteneva fossero persone di fiducia e queste persone cosa fanno al primo diverbio ma poi ma di diverbio alla prima incomprensione subito minacciano di mandare la finanza subito cominciano che devono fare la pertenza cittadale subito cominciano con tante storie che non fanno bene all'amicizia non fanno bene né all'uno né all'altro allora tutto questo si riassume in un modo che spesso la fiducia viene tradita spesso le persone più le riteniamo amiche più le riteniamo sicure più le riteniamo care e più queste persone ci tradiscono ho fatto l'esempio dell'ambiente di lavoro dove a volte le vittime sono le persone che lavorano gratis o sottopagate o senza contributi altre volte sono i datori di lavoro che pensando di assumere delle brave persone invece assumono delle persone cattive che poi creano mettono in rivolta gli interi ambienti di lavoro che sono persone che cercano di dichiarare malcontento e mettere zizzani ma questo discorso della fiducia tradita vale anche in altri contesti non solamente nel lavoro vale anche nell'amicizia pura che niente ha a che fare con il lavoro vale anche quando due persone si confidano o quando uno confida un'altra persona le proprie cose confida i propri dolori interiori i propri dispiaceri la persona si fa dire tutto non ti preoccupare conta su di me parla con me dimmi sarò tutto orecchio non dico niente a nessuno e poi al momento opportuno invece spifferà tutte queste cose ad altri ebbene signori cari si dice a Sulmona per queste fiducia tradite si dice a Sulmona che che si fida spissa si frega ma che tradisce ma la mente finisce tradotto chi si fida spesso viene ingannato ma chi tradisce male finisce perché perché è vero che se uno si fida si fida troppo qualche volta rimane profondamente deluso ed amareggiato per i motivi che ho detto prima uno si fida si confida e nel momento in cui questa fiducia non viene rispettata ma viene divulgata viene resa di pubblico dominio viene derisa viene criticata la persona che si è affidata rimane ferita rimane ferita moralmente ci rimane male oppure quando ci sono per di mezzo questioni economiche uno si fida l'altro non ti paga più tutti questi discorsi qua però cari signori anche chi tradisce non sempre fa una bella fine e qua la storia e le leggende ci insegnano che parecchi personaggi che hanno tradito hanno poi fatto una fine meschina bruttissima beh vogliamo partire proprio da antica 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 la leggenda dice che è lucifero che dal latino significa lux ferro luce portatore di luce era l'angelo più bello che Dio avesse creato era un angelo meraviglioso però era talmente meraviglioso e bello che se un certo momento si è ribellato a Dio dice la leggenda si è ribellato a Dio ha alzato la cresce ha litigato con Dio lo ha tradito ha tradito la fiducia di Dio che Dio e ti senti amico tu qua in paradiso che me ci sta pure va 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 e lo ha cacciato da paradiso lo ha mandato giù all'inferno a combattere con i dannati quindi lucifero da essere l'angelo portatore di luce ed a frenè in mezzo alla parte più scura del mondo diceva va combattere la gentile che la stai bene poi è arrivato sono arrivati nella storia romana Bruto Bruto che era un prediletto di Giulio Cesare Giulio Cesare ripetava Bruto quasi come un figlio no però quando Giulio Cesare fu tradito che venne pugnalato chi ci stava fra con loro con lo pugnalare Bruto e Cassio che erano i due amici di Giulio Cesare e Bruto addirittura lui lo reputava come un figlio al punto tale che mentre lo pugnalava gli disse puro tu figlio mio mi stai pugnalato disgraziato e granziato mi stai pugnalato puro tu quindi Bruto e Cassio che erano amici di Giulio Cesare lo pugnalarono però anche loro dice la storia e non la leggenda lo dice la storia che nella battaglia di Filippi che all'epoca stava in Macedonia ma che oggi per riconfinamenti si trova in Grecia morirono tutti e due in malo modo suicidi perché? è perché in guerra fece una brutta finuta e due lo stesso Giuda lo più grosso traditore famoso al mondo è Giuda Giuda è stato il più grande traditore che ha fatto Giuda? si è venduto Gesù Cristo per 30 denari se li ha goduti questi 30 denari col cacchio che se li ha goduti è vero che ha venduto Gesù Cristo per 30 denari però mentre da un lato stavano condannando Gesù Cristo mentre Pilato stava lì condannando Gesù Cristo Giuda si è impiccato nel Tempio quindi Capate ha buttato i soldi nel Tempio e si è impiccato Capate Giuda ha tradito e che ci ha guadagnato quindi questi esempi sono i più plateali non significa che chiunque tradisce fa una brutta fine però il proverbio dice che chiunque tradisce malamente finisce chi tradisce non è che tradisce e non paga poi e la cosa finisce là ci sta chi tradisce e poi gli va bene per sempre ma ci sta spesso chi tradisce e in un modo o nell'altro quanto meno se lo aspetta questo gesto di cattiveria questo gesto di oltraggio massimo nei confronti di una persona cara che ha creduto in lui o in lei questo gesto viene pagato e viene pagato in malo modo non sempre fisicamente ma molte volte si paga anche moralmente per esempio con un dispiacere con un qualche cosa con una delusione sono tanti modi per far vivere poi male chiunque di noi quindi tradire è una cosa bruttissima cerchiamo di essere leali cerchiamo di essere sempre leali con chiunque ma soprattutto con chi si fida di noi chi si fida di noi è perché vede in noi una persona al di sopra delle altre perché vede in noi un rifugio nel quale ripararsi dalle avversità della vita chi si fida di noi è come un bambino che si abbraccia i genitori è come il cagnolino che si abbraccia che si va a scotizzolare ai piedi del padrone è come un qualunque essere che ripeto si vede una sicurezza tradire questa sicurezza è una cosa brutta cercate di non farlo è una cosa brutta perché non si può essere fieri di essere traditori nessuno può dire ah io sono bravo io ho tradito osannatevi perché sono tradito ma che cacchi ti osanna sei un traditore la farà fin di un traditore traditore sei traditore rimarrai quindi comportetelo buono comportiamoci bene io mi metto sempre all'inizio comportiamoci bene che come dico sempre io non ci costa niente se non vogliamo fare del bene alla gente non lo facciamo che non siamo obbligati a fare del bene ma non facciamo neanche del male soprattutto a chi ci vuole bene quali persone che mi devono capire ce ne stanno parecchie perché ci sono lunghe leghi di gente che si rivede in queste parole che vuole capire capisce buona serata vi voglio bene ciao 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 ciao